Anfascia a tutti ragazzi qui Canelupo ed oggi siamo con la trollata in Aram in compagnia di Seven Shot Bella Non abbiamo sentito Bella Non abbiamo sentito il saluto Anfascia Ecco E c'è anche Cool Melis ma è mutato perchè non vuole fare un Aram Io direi di ammazzargli il pene Non ha il pene lui Adesso ne annodiamo subito Aia aia quello è francese Noi non siamo razzisti assolutamente I francesi non devono morire no assolutamente no Non devono essere appesi per i coglioni sugli alberi no assolutamente no Devono morire assolutamente sì Sto stronzo di Seven Shot aveva l'isin E io avevo corchi Gli ho detto per favore dammi l'isin No no si può bussare l'inamonte tutto Ecco perchè ho l'isin Se quest'altra settimana vedrete Seven Shot in Diamond è merito mio Il platino 5 eh sottolinea Zero punti Rischio Rischio retrocessione E mo' con gli albitri Boh ma non ho mai visto che è successo C'è gente che usa drop pack E se gli stanno alla partita Lo attiva Il giocatore cresciano tutti E la partita te la danno in computata Ma però cioè Devi essere sicuro da perde Che fallo ti d 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 faccia per favore le fasce facciamo cortelissima grazie a un posto quando vi euro nano ma non puoi te li hai di ecco l'occasione ecco qua un buon codicino oa che tgp tgmx2 di amma teccu pruncino più qualcuno fa ok ecco city flash 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 s vorrei ricordare che sto usando lo smartcast e a fascia e a fascia o non ci credo sono due partite uso smartcast e due rancari che perdo quella prima l'avevo levato o shishako hai sai io non so più lo star d'asta troppo guarda ho i diri che più a me più a me a me pozzerlo oh che va ti aiuto faccia faccia eee 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 no a a a a cazzo poi a tutti a cazzo sbagliato ho ho dove sta il porto parola ecco po sta porno ecco 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 fitte poro fitte un modo che va no no rarro stato su un'isola segnali rara rara pranzo come un po' aiuto casco casco oltre a scuola la sua cascata per ora il bagnetto a chi lo guarda ehi è un fascio non è stato per cazzo scuola cazzo e basta posto domina ma non si la raga hanno scelta stiamo a questo punto c'è ciao faccio faccio o di tutte stelle tanzare ecco ecco la spettacolo faccio zanzara no oh di stasi ti ha un po' un po' eh un po' eh 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 cazzo 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 a cur po po cazzo cazzo mi hai tepupo portato per cazzo ecco musica cazzo portiere cazzo il mobile è cazzo cazzo apporto a roma 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 faccia sponno costo per me quattro vento vento un manco non voglia d'aventare io non ho insomma prende la venta al minuto 4 non gliela da bravo non gliela da no io mi rifiuto io mi rifiuto 30 al minuto 4 bene io mi rifiuto va bene 30 al minuto 4 scherziamo 30 al minuto 4 porca ma mamma come se vuole romper culo fatti mamma invito buon più chimi s ho messo basta faccio non vorrei altrimenti ecco non amassare voglio alessandro ora in pace passa il suo contatto disco la fascia vento ammettamente l'ultima canca con tu madre lo s'amboccato ho permesso ah ma no ho usato i piedi senti un po' ah ho riscappato il clone no eh oddio sbebbe sbebbe che hai detto faccia sbebbe ragazzi lo sniper eccolo ah faccia aprile attenzione ora mi cazzo faccia se ti vuole vada al cazzo te il cazzo gli leva eh oh ma no ah 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 ma che cazzo flecchi fatagli ma si dava quanto sta fattendo evalino scusate eh 7-0 quale erano le sue prime kill che detto quale erano le prime kill di evli nooo le prime 5 kill di evli non si credo 3 più 3 3 più 3 8 8 no si ci 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 madre più 3 8 ok perfetto no pensavo che eravamo niente no 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 pensavo contenti ah toon fascia ah si cad balli ah balla su sto cazzo fascia balla balla no è finito il te adesso ho troppo a te pure no vai 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 eee eee eeey trick attenzione guarda è fascia non sanno che io sono cieco potecappa no no non voleva chi 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 star notisco su un microfono quello un fascia ma non faccia di un fascia fascia oh a pezzi oddio se quell'amore manu biggitem o la cista trick trick faccia 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 ma che cazzo ha se quell'amore cioè se io gli facessi così sarebbe già morta se no non glielo faccio ma glielo faccio così la c'era e boom è morta vedi ma che segreto guarda è mortale quello oh ho preso 387 gold di assist ma che davvero guarda singhade non è che va su rengar uii mf vai penta mf penta si si penta penta non voglio scappare non kaitiamo no ma fai a kaita se chiede in cesta no ok ok non avevo il coraggio di dirlo perchè veramente mi sto sentendo male mi avevo un crancro 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 non sceglie ma capo che fa per essere compara cazzo pro bravo me lo senti medicina buzza per esempio oh 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 il briga oh non ho preso non vedi o pica e man non lo so ho fatto il briga della madonna oh ah non per cazzo si vai via mangia la mia merda chi mi fa no 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 io prendo sempre skill shot tutto questo ma se sento sniper vabbè perchè vedi là dentro c'è qualcuno c'è dentro qualcuno c'era qualcuno dentro c'era qualcuno oh 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 mortacci tua affascio questo qui come fa la penta quella cosa boh stupido attenzione poi vai a capire me si è levato lo schermo di nole e mi è accettato la tv ma che cazzo a bufo a bufo così così a bufo ecco ora ce li sto ma che cazzo faccio voi per cazzo sti giochi in box va bene mi c'è guarda sniper sniper aspetta aspetta fascia ok ho afferrato una un po' per ca triplo 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 kill l'ho aperto allora ho aperto come la domanda non lo passi con testa ricazzo coppia roma è soffesa per i bianchi r st ovviamente non siamo razzisti siamo razzisti solo contro i francesi il rispondo di merda però voglio am 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 5 6 5 5 6 8 8 8 5 6 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 per culo ma non è la moglie non per culo a perché non lo sapesse ma non dico come fa monacchia di genoso facebook caromba giungo borgiuc il pd assurano male semmi l'amicizia un cavo mando le foto di canelupo nudo volevo la pasta e.a. ma faccia a faccio di occhi o di occhi o di occhi o di occhi non consigli mai così a pensare per i poteri a faccia la parola o la faccia boccia potete oltre al timore pericoluc oltre a stare a una volta che succede faccio così per nessuno per il visibile is sono troppo forti non lo che è quello che ho fatto faccio e la mia testa poste per usare st ho avuto un'applauso tutto mi sa sfruttando me casca non carriera m bcci che c'è la stessa testo non sova il suo meraviglia farò un peccato a pensare scottica del teatro di modi indici vieni che se ci mangiate ingaggiareci ingaggiateci tu madre fascia bo 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 b bu bo 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 ropes bu bo bo bob quadra 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 attaccamento attacca attrezione la sorella di di qualcuno affatto che c'è ragazzi mi sono gall från non pensate male non pensate male esatto, 9 anni non fate come faceva il nostro amico ehm 9 8 7 hm 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 ah sì, sta a sfidare eh 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 ah ah è una farsa quella comunque eh ma roba faccia da cazzo ahahah 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 oh via dal cazzo via dal cazzo via dal cazzo ho chiamato linda troppo forte oh di annaffa ancora oh i trick missione oh oh ho chiamato questa ah 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 ha preso lei scappa ah perché ah no quella non vive eh è morta è davvero ahahah sei proprio un coglione dai riso stava dai riso eh 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 ma stevely addio appena ho capito ehi birda ah si dai ris nostro non c'è boh sta succhiar cazzo ai negri ahahah e sta a fai segmentali attenzione la prima cosa decente che fa ahahah non è vero venga qui si dà la pazza gioia che cazzo fanno ahahah ma che era lì allo è quello si questo è bello sciago fascia 50 gold in base eh 50 euro ascutami lupo si appresta al tiro viene grappato ferra la cup senti mi ti dà uno strappo ecco fa un coglione questo donna da sciago io con la curti sta la uh beh dai 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 qua bravo coglione che culo mangia ma c'era il caso ma chi l'amore sciago oh ecco la roba che culo c ciò penso io a fa un sbarco ecco la sciago oh è 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 sciago ottimo eccolo eh passaggio vittrante questo ho tutto 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 che qua è qua uuuuh pochia droga un po' tutto eeeh ma cazzo ma cazzo coglioni se ti fa a favore 30 senti se mi puzzano i piedi senti un favore guarda me puzzano senti un po' no grazie no faccio 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 oh mi ha perso tori 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 ma la mano sega niente vi rompo tutto ahahah inna di nipido non c'è credo tazzo 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 uterete sotto qui oh tic tia no c'è paura m ecco co su un'altra d'altra sono peggio no 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 cazzo ma che debba chi non sa cosa vuol dire perché non sa cosa vuol dire ormai guarda e quando scrivono o mfg vuol dire oh my fucking god e quindi vuol dire vuol dire che bestemino che vuol dire che dicono porco io sono molto religioso ecco la pasta formazione avrilano o da anni di scioglio raccontato così tanto mai con la prima allora poi non so se conoscete la tattica del non look ora ve lo mostro fate finta di andare da una parte fredda la questione carattere del piazzo marietta andava a me che mi aveva preso mario ragazzo io ho preso parola non fa l'ho il fatto armi sono il pari sarvali o moro per cazzo obbioiii si faccia manu ragazzi anche questo match è stato vinto esatto ok spero che vi sia piaciuto se vi piaciuto un bel like se vi va ovviamente condividetelo o una pagina facebook se vi va mettete mi piace puolga bella a tutti ragazzi anzi anfaccia a tutti ragazzi di lupo eh 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 anfaccia all'inizio guarda che sto facendo mio ma che cazzo ahahah l'ho sentato si bella a tutti ragazzi bella